La scrittrice teramana Aida Stoppa, figlia del noto giornalista Tommaso Bruno Stoppa, festeggia la sua brillante carriera dedicata alla narrativa con l'alto riconoscimento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che le ha conferito l'onorificenza di commendatore dell'ordine al merito della Repubblica italiana per meriti letterari e artistici. Ma se l'aspettava questa chiamata di Mattarella? Assolutamente no, tanto che all'inizio pensavo che fosse un scherzo, poi ho visto che non era possibile la busta, il taglio, insomma ho capito che era la verità e naturalmente mi ha fatto piacere, mi rimanevo sempre molto stupita. E Mattarella che cosa le ha scritto? Aveva scritto che questa onorificenza di commendatore, che si dice anche commendatrice, veniva data per meriti letterari e artistici. Quando ha scritto il suo primo libro? Io ho scritto prima molte cose di critica d'arte, tanto è vero che dicevano a Teramo che ero stata la prima, quando tornai da Firenze dopo la laurea, a diffondere un po' la critica d'arte nella città, scrivendo articoli sui giornali, sulle riviste. Per esempio ABC, perché allora c'era questa rivista ABC, e poi sulla rivista abruzzese, sulla quale scrivo tutt'oggi, insomma. Aida Stop ha scritto innumerevoli libri nella sua vita, affrontando spesso la tematica a lei più cara, la condizione della donna, storica, politica, economica e sociale. Tra i suoi ultimi romanzi c'è quello dedicato alla storia di Cristina da Pizzano e alle origini della Querelle des Femmes. La protagonista è una figura rivoluzionaria del movimento di emancipazione femminile e del panorama letterario francese tra il XIV e il XV secolo. Lei ha dedicato tanto tempo, tante sue pagine, tanti suoi pensieri alla condizione della donna. Perché? Perché è un problema del nostro tempo molto grave, non risolto ancora in alcune sue parti. E perché io sono stata una femminista fin da quando avevo l'età della ragione, insomma. E quindi tante cose che mi colpiscono, mi fanno male, che avvengono contro le donne in tanti paesi, purtroppo ancora ritrati del mondo. Alle donne che combattono ancora per raggiungere una condizione, una posizione di parità, lei che cosa direbbe? Di non mollare mai, di andare avanti, perché il futuro è per loro, o per noi, diciamo. Ma bisogna avere la costanza e la forza di andare avanti, perché la strada giusta è quella. C'è della gente che non ama la parola femminismo, ma femminismo non significa altro che parità di diritti e di doveri. Quindi in una società democratica, realmente democratica, ci deve essere parità di diritti e di doveri.